Musica Only Craps Beach Sono Bezzabossa e sono tornato con il settimo episodio del nostro Let's Play su Untarned Come sempre sono insieme a Sono 14 E in questo episodio, prima di cominciare con questo episodio, anzi, volevo dirvi una cosa Come sapete noi abbiamo concluso il sesto episodio dove della macchina che più o meno era... eccola lì Allora siccome appunto essendoci, essendo usciti dal server e sono spawnati tutti i zombie Li abbiamo uccisi e abbiamo anche esplorato tutte queste case E dentro una di esse abbiamo trovato un coyote pack Che, non bada a te il nome è un po' strano, ma è lo zaino più grande di tutti, correggimi se sbaglio No, è il secondo più grande però Ok, poi c'è anche quale? È l'Alispack E poi c'è un altro ancora più grande che non ricordo il nome Però è verde Forse avete sentito un rumore, una notifica di Facebook perché l'ho lasciato aperto Di quale macchina? Sì, però avevo visto un clot, aspetta fammelo prendere va È qua il clot E qui c'è l'ancora Prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto Ho 81 di disease Io ho 46 di sete 47 io Eh ma tanto c'è l'acqua qua Aspetta fammi bere la canteen va, esatto Un gas can può essere utile Sì insomma ragazzi appunto Erano spawnati tutti i zombie e altri nuovi items Proprio in inglese fluido Allora abbiamo approfittato per prenderli prima di cominciare a registrare Perché sempre la solita cosa magari annoia un po' Sei già sulla macchina a te? Bevi, 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 bevi No sto bevendo Ah sì anche io bevo adesso Pane, 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 pane Un detersivo, detersivo Ti ricordi? Sì Oh, merda Ci do io Mi sa che stava andando verso lì te No, no ti aveva visto Sì poi ha girato un pochettino Vai se vuoi deliziarci con una delle tue straordinarie guide Sì Allora Prendi la mappa e decidi dove fare la base Allora Siccome io non ho mai Non ho giocato tanto da solo Preferirei Vediamo un po' I present Ah aspetta Il confederation bridge Vicino alla base militare Al confederation bridge Si può fare tra Barrywood E la base militare Solo che adesso stiamo andando in direzione tutt'altro che giusta Di qua? Sì Sì ma non esploreremo mai l'altra parte della mappa No magari lo faremo Finita la base Capisco Sì si può fare Ok Dov'è che dici tra? Tra Allora aspetta Tra Barrywood La città tutta in alto E la base militare Che così abbiamo anche vicino Il confederation bridge E anche quello Le benizioni là Sì Sì esatto Allora aspetta un attimo fammi fare del clot Comunque ragazzi Prima di cominciare a registrare Mi sono messo Si possono cambiare Guardate Se io vado con il puntatore tutto a destra Vedete che mi fa switchare lo stesso Ho messo una craftsman Perché vi devo mostrare come si craftano le cose E una immunity E adesso infatti ho poca esperienza Mi va via la voce lol Allora aspettate Ho poca benzina Eh ho due Ho due cose Eh ce n'ho anche io una Sì Ah neanche te una Buono Eh sì Aspetta Dove stiamo capitano? Un attimo Perché dovevo mangiare io Aspetta Aspetta Dovrebbe bastare una barra di cioccolato No 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 Stiamo andando giusto Non è questa la città Barrywood Esatto Questo è Tim Mi cazzo si chiama Albert Pon Timberton Cosa stai leggendo? Timberton Beh è il nome di una città di sacred Ho scattato un attimo Sto andando da 3 fps Sì infatti stai guidando male No Ho solo preso un marciapiede Sì beh insomma La tua guida non era più fluida Anche adesso stai scattando Sì Che è successo? Beh ho scattato malamente Ho girato un po' di più E sono schiantato Ok Ok ma il punto è che vedo che Vedo anch'io che stai scattando Che c'è Cos'è che vedi? E vedo che vedi tutto a scatti Lo vedrai nel video Ok Abbiamo due di benzina Uno E Finita la benzina Ti tocca farcela a piedi No avevo le tanniche Dai Dai spingi 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 Oh no No Muoviti a mettere la benzina Ci sono i zombie Stanno arrivando Aspetta Muoviti cazzo Aspetta Non voglio scendere Non voglio scendere Sono troppo pigro Lo so Allora mettiamo Ti sto guardando Cazzo Non l'hai visto tu vero no? Impossibile No Sono in macchina Vai Minchia che colpo Mezzo colpo ha preso Avevo sentito Con la Quanto hai di vita? 57 Dopo il tuo pugnetto Io 45 Avevo sentito Il rumorino Il verso dello zombie Con la coda dell'orecchio proprio Immaginatevi la coda dell'orecchio Ma stai facendo apposta andare qua? Oppure stai laggando? Eh No Qua in mezzo dobbiamo andare scusa Qua vuoi farti la base? L'hai detto allora Minitary base Sì Da Cerca una zona un po' più Pianeggioante No Dai Che palle Non voglio più bere con te Chiedo il divorzio Divorziamo Sei una merda Smonta Che schifo Allora Prima cosa dobbiamo prendere gli alberi Eh Con lascia Però ne hai una sola vero? Tieni Quante ne hai? Eh una sola Eh ma io vado in città nel frattempo Se permetti Vado a prendere Cose Va Bon dai Tanto devi tagliare alberi Non è che puoi morire Dammi il martellone però Non ho armi Non hai Ok Il mio fidato martellone Peccato Aspetta Allora facciamo così Lascia va Nella slot 1 E il martellone Nutellone Camperone Se ne va Affanculo A lei Allora Attento che adesso devi Prendere Tutti gli oggetti Aspetta 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 Dove sei? Il cappello Quello Il casco del minatore Lo hai te o lo io? Eh lo ho io Dammi qua che tra poco ne ho bisogno Anche se Non ne sono molto sicuro Vediamo Adesso sono a 11-12 fps Proviamo 10 Io voglio provare a colpire l'albero Con il martello 10 sono Ok Allora Quanti colpi ci vogliono di solito Per un albero? È abbastanza Ah guadagno esperienza LOL Sì Sia a minare Che a Tagliare gli alberi Aspetta ma un albero Che drop dà? Eh Da Stick Da log E dei bastoncini A volte Non ho preso un cazzo Ah eccoli PDV Magazine Parliamo di videogiochi Eh? PDV Parliamo di videogiochi Ah PDV W Ah ok Allora Luttiamo tutto Tanto sono in città Ma tu tipo Ti devo portare Da mangiare Da bere Sì No sono a posto Large bottle of water Che buela Sarebbe che fortuna No è mio dio No no I grandi rumori Non sono stato io Stavolta non ho fatto niente Non siete stato voi Che parlate di libertà Mi uso tre bende Eguisticamente Perché devo fare spazio Sì sì Mi fai bene Certo che Questa ambientazione Da solo è un po' Cupa Lel E poi con la Con il casco Mi laga di più Ma almeno Non vedete buio Totalmente Ma cos'è sto oggetto? Poi il juice box Cazzo io ne ho alcuni No 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 Allora Vediamo Grillo Aspetta Belzeboss è il boscaiolo Il bossaiolo Boscaiolo Questa è una cosa un po' Personale Questo sa il titolo della parte Belzeboss è il boscaiolo Sì probabile Aspetta Cos'è che devo prendere Io devo prendere Log Stick Ok Ho 8 Log 13 stick Prendo ancora Vero sì Tecnicamente Tecnicamente andrebbe già bene Quello che hai ma Ma prendi Finchè non torno Sì Meglio abbondare Cazzo Avrai 72 miliardi di log E qualche miliardo di stick Aspetta ma il peso Me lo Il peso Sta per andare Sì Sono pesantissimi Il peso sta per andare A farsi fottere Infatti ho 14 Ma tanto Se butti per terra le robe E noi non ci disconnettiamo All'esterno 15 kg Basta Non puoi prendere Su niente No Eh no C'ho il gas can Uno dei due gas can È vuoto Mi sa Ma non dovrebbe Centrare se è vuoto O meno Il peso E keep Empty Ok Quindi Drop E vai Ha ancora spazio C'ho Yep Prendiamo Non è che spazio Eh io sto prendendo È meglio Il log Di stick Meglio prendere Un log O un stick Mi sa che gli stick Pesano poco Eh ma il log Scusa Fai diventare bordo Che dopo con Ah no C'ho ancora spazio C'ho ancora spazio A fare Stick Quindi è un log Meglio Oh 14,75 Eh tra poco Tra poco Potremmo usare Tutti i nostri Signor lampada Per illuminare La nostra casa Seriamente Sì Bello 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 Generatore Benone Beneone Chi è un tuo amico Beneone il pennellone Qui intanto trovo Scale A caso Ah io sono dove Della macchina Sono tornato Senza neanche Volerlo Praticamente Hai Deforestato Mezza foresta No Ne ha neanche tanto Praticamente Hai un piccone Eh no Bene Cioè in realtà Non è bene Io ho 16 stick E 11 board 16 stick E 11 log Log scusa Eh perché i board sono Sì perché prima L'hai detto te è board E quindi mi è rimasto Impresso nella mente Magari bevi o Fai quel cavolo Che vuoi Libera spazio Libera spazio nel senso Butta via qualcosa Per il peso Butta via qualcosa No Per proprio Un numero di spazi No ma gli spazi Ne ho ancora abbastanza È che il peso Non me lo consente È il peso Che non mi consente Aspetta Adesso Con il log Vai su crafting Ah sì sì Crafting La cesta Vuoi che mi faccio Devi aspettare Prima di fare la cesta Amico Oh cos'è Tutta la tua confidenza E quella sarà Una delle ultime cose Perché prima Dobbiamo farci la casa Con il log Vai su crafting Eh sto anche aprendo La foto sul cellulare No ma non ti serve quella adesso Me lo ricordo ancora a memoria Che palle Aspetta Ma io intanto qui Non sto trovando Una mazza Proprio una mazza E poi alla fine La puoi anche trovare Una mazza La mazza da baseball O quella da golf O quella da martello Allora Prattente ragazzi Mi sono fatto delle foto Sulla wiki Per fare la cesta Servono Una crate Non devi spoilerare Roba Andrea Ma si tanto Una crate E tre wooden cross Per fare le wooden cross Non devi farti una cesta Andrea Devi fare la wooden foundation Wooden foundation Ma lo Tu metti in log Fai crafting Ti vengono le board Dalle board Fai crafting Ti vengono altre robe Da quelle altre robe Sempre così devi fare Finchè non ti vengono Wooden foundation E te devi venire una sola Allora Se metto gli stick Viene fuori Wooden support Eh Andrea Se tipo Butto via il tuo martello E mi prendo un'altra ascia Sì dai Che tanto il danno è uguale Sì ma Gli stick Allora Se metto gli stick Viene fuori Wooden support No Devi mettere i log Ah ok Allora Il log Danno 4 Board Eh Quante ne faccio 5-6 volte Clicca su crafting 5-6 volte Ho 16 board Ecco dai 16 board Metti le board Su crafting Uno Wooden plate Eh Quanti ne faccio Fai lì Fai tutto Fino a finire le board Me ne è rimasta una Perché me ne è rimasta una Perché Te ne servono tre E quindi va dispari Ah sì Giusto E dove mi sono andate Nel Per terra Per terra Sì Allora aspetta Bevo staccane De cola Ok E mangio Questa chocolate bar Così dovrebbe tipo Bilanciarsi Sia la fame Che la sete Quindi Ricapitolando Ho Ho 8 Wooden plate Wooden plate Wooden plate Wooden plate Sia la fame No No Un wooden frame Avanzato Ah vedi Ce ne vogliono tre Adesso Prova Ma se non mi soglio Il wooden foundation È pavimento Vero Sì Eh Allora Equip E io dovrei appoggiarlo Lo metterei là sopra È vero che tutto il verde sta sopra Però il pavimento è in bilico Su una duna praticamente Allora viene metà Metà dentro Allora sai cosa Fammi scendere magari No sto arrivando io Sto arrivando io Devo restare così Con sto roba in mano imbambolato Cazzo Esatto Io sono dove della macchina Eh Anch'io sono dove Ma se tipo switch Se Se tipo switch Due sei Qua dietro Eh Ma io non vedo mica il tuo verde Eh lo so Dove mi consigli di metterlo Guarda se trovi una zona pianeggiante Ecco Io ti direi Io ti direi Qui mi dice tutto verde Praticamente qua Sì Puoi fare Sì vai Vado Sì ma al massimo la buttiamo giù Non è che Beh Perfetto Non ci credo Vieni qua Sbacciuffami Mua Mua Batti cinque Batti cinque In ritardo Un attimo in ritardo Ma lol Anzi non me l'aspettavo Adesso tu devi fare Sì Eh sì Vodempillar devi fare Vodempirla Come si fanno i Vodempirla No cosa fai No No Ti ricordi No io volevo farti cadere dalla macchina Che eri sopra la macchina Ti ricordi che una volta sono morto Per quel palista stronzata No ma tu mi sei venuto sotto Non eri sopra Ok però Lascia perdere Cosa devo fare? C'è l'erba dentro la macchina Che realismo Fantastico Aspetta Aspetta metto il generatore Sì E metto gli amici lampada Vai così concretiamo l'episodio Ma perché ragazzi Oh non ho volta memoria Ci starebbero due episodi giusti Invece di farne uno da 20 minuti Facciamo magari uno da 18-19 E l'altro da 17 Così ci stanno Tutte e due Sì Sto rumore è del Del generatore Ne mettiamo una qua In casa Non c'entra niente Lo so Il signor lampada Aspetta Che ne metto un altro No mazzo No scherzo No stavolta ci sia Posso spegne È lo vero Turn off Turn on Turn on Scusate Salto sopra I grandi generatori Guarda Bellissimo Le frasche Aspetta Lol Sei in mezzo alla natura Incontaminata Con le frasche Il signor lampada Un generatore Un pavimento Una macchina Cosa c'è di meglio Il signor lampada Esatto sì Va bene ragazzi Direi Come come Sette L'ho sette Signor lampada Esatto E inoltre l'episodio numero sette Coincidenze Io non credo Un abbraccio Adam Bezzbossa E sono 14 Allora Diciamo che per questo episodio È tutto ragazzi Meglio uscire da questa zona Perché Bellissima l'erba Adesso che guardo Sì Diciamo che per questo Bisogna è tutto Dovremmo riuscire a registrare Subito l'ottavo Così da portarci avanti Dipende tutto dalla memoria Magari faccio un po' di spazio E quindi ragazzi Dicevo per questo video è tutto E ci vediamo al prossimo video Un saluto Dovremmo riuscire a fare E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi E ci vediamo al prossimo video